A poco meno di un mese dalle primarie del Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario nazionale, Idem Sulmonessi, Teodoro Marini, Vice-Segretario Cittadino, Mimmo Di Benedetto e Cristiano Gerosolimo hanno deciso di sostenere la mozione congressuale a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini. I tre rappresentanti del Partito Democratico di Sulmona lo hanno reso noto dopo la riunione che si è tenuta nella serie di corso video in vista della preparazione a congresso. Dopo un confronto aperto e costruttivo siamo pronti a scendere in campo al fianco di Stefano Bonaccini con il quale condividiamo l'impegno di riprendere filo, di riaffermare le nostre ragioni e di ribadire l'obiettivo del Partito Democratico. Ci hanno convinto le sue parole d'ordine, lavoro, sanità e scuola pubblica, lotta alle diseguaglianze, la crescita inclusiva, la sostenibilità, l'investimento nei saperi, nelle nuove tecnologie. Per questo l'appoggiamo con convinzione, dichiarano i tre esponenti del PD Sulmonese. Idem tornano alle primarie.